Contratto! 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 È un rinnovo contrattuale che vale 240 euro in tre anni, quello che chiedono i lavoratori della grande distribuzione alle dipendenze delle aziende rappresentate da Feder Distribuzione. Sì, perché nonostante l'ultima revisione risalga al 2018, l'associazione tarda a firmare il nuovo contratto collettivo per il settore della distribuzione moderna organizzata. Di qui lo stato di agitazione nazionale, convocato in modo unitario da Filcams, CGL, Fisaskat, CISL e Wiltux Will, che in provincia di Lucca si è tradotto in due presidi, uno a Lucca e uno a Porcari. La protesta è per il mancato rinnovo del contratto nazionale, in un comparto come quello del commercio, dove assistiamo ormai a quattro tavoli negoziali, Conf Commercio e Conf Esercenti hanno già rinnovato il contratto, così come la distribuzione cooperativa. Feder Distribuzione, che rappresenta queste aziende, con assoluta arroganza, ancora oggi ci nega un rinnovo, un contratto nazionale che manca ormai da oltre 48 mesi. In termini pratici, cosa e quanto cambia per i lavoratori questo mancato rinnovo? Cambia tantissimo in considerazione che a parità di mansioni nel mondo del terziario del commercio, sostanzialmente ci sono economicità che vanno a ballare e soprattutto la rottura è dovuta a una declaratoria che Feder Distribuzione vorrebbe portare a ribasso. Quanti lavoratori riguarda in provincia di Lucca questa vertenza? Il numero più o meno sono su 4-5 mila lavoratori e le aziende che sono interessate a questo contratto sono delle grandi aziende come S.Lunga, Penny, i Lidl, Pan Panorama e Cari Furque. Oltre ai due presidi, la mobilitazione ha comportato l'astensione dal lavoro per l'intera giornata odierna.